Il carrello di alta qualità BGS Technic mette fine a disordine e caos nella vostra officina. Il nostro estremamente duraturo carrello ti mostra la differenza tra prodotti di qualità e prodotti economici. Un largo scompartimento di 4 cassetti montati su guide scorrevoli con cuscinetti a sfera assicurano un sufficiente spazio per i vostri utensili. I cassetti lisci scorrevoli sono completamente estendibili. Ti permettono di raggiungere qualsiasi cosa in modo confortevole. Le 4 robuste ruote con cuscinetti a sfera sono disponibili per un facile trasporto. Due delle quali possono essere ruotate e sono dotate di freno. La chiusura centrale protegge da accessi non autorizzati. Questa è la qualità di cui si ha bisogno. Il piano stabile con copertura antiscivolo ti permette un lavoro sicuro e confortevole. Questo carrello BGS è ideale per la vostra officina.